Fare questo lavoro vuol dire impegnarsi con una prospettiva, quella di guarire bambini che hanno delle patologie ematologiche, oncologiche, sistemiche molto gravi. L'encoematologia pediatrica del Ciaccio di Catanzaro è un reparto di eccellenza. Non è vero che in Calabria non esiste la buona sanità. In Calabria la buona sanità non fa notizia. A poche centinaia di metri di distanza c'è il Pugliese, dove pediatria e chirurgia pediatrica non hanno nulla da invidiare ai grandi reparti delle città metropolitane del centro nord. Il nostro è un reparto che non solo dal punto di vista alberghiero ormai garantisce dei livelli veramente alti di comodità per i nostri utenti, ma anche dal punto di vista delle risposte nella cura e nei pazienti, nella diagnostica e nella cura, credo che si collochi certamente fra le migliori realtà a livello meridionale. Tutto quanto il personale infermieristico sono degli infermieri pediatrici, la loro attività non è iniziata da poco, ma ormai sono anni. I medici siamo tutti quanti specialisti e tutti hanno fatto esperienza nei vari presidi ospedalieri e universitari d'Italia. Le eccellenti professionalità contraddistinguono anche i presidi di La Mezzia Terme e Vivo Valencia, qui dove un po' di rinforzi al personale sarebbero davvero preziosi. È un reparto che come tutti gli altri reparti soffre un po' per una carenza di personale che è sempre, diciamo forse rispetto a tanti altri, non è disastrato come risorse umane, però è chiaro che avrebbe bisogno di un ulteriore aiuto e sostegno. Cristina Iannuzzi per la Cineus 24.